Sì, oggi parliamo ai 25 anni dalla direttiva Habitat e di quanto questa direttiva sia stata utile all'Europa e soprattutto al nostro Paese per dare una cornice comune per la conservazione della biodiversità. Noi vogliamo dire, lo diciamo chiaramente, che questa è l'Europa che ci piace, nel senso che questa strategia ha dato una spinta propulsiva fantastica al nostro Paese, creando ovviamente, diciamo, è capitato anche delle contraddizioni, contraddizioni che sono nate perché la pianificazione di Natura 2000 non è stata completata, perché non sempre tutte le istituzioni hanno lavorato in maniera sinergica, ma grazie a questa strategia noi abbiamo avuto per 25 anni un programma finanziario, un programma Life, che ha dato la possibilità di salvare specie, di investire in conoscenza, in ricerca. Quindi se oggi possiamo celebrare la natura d'Italia, questo lo si deve a questa strategia.